A me è piaciuto soprattutto quello che ha detto oggi durante la predica, ci ha detto di ogni mattina ringraziare il Signore. Signore, ti ringrazio perché mi ami, fammi innamorare della mia vita. Dobbiamo essere seminatori di speranza e che per fare ciò non possiamo stare seduti sul divano. La divano felicità è probabilmente la paralisi silenziosa che ci può rovinare di più. Dobbiamo alzarci e mettere le scarpe ai piedi e metterci in movimento, andare oltre, andare nel mondo ed allargare gli orizzonti. Non lasciare gli altri decidere per il mondo, ma impegnarci noi, alzarci dal divano e cambiare il mondo. La GMG si respira un'aria di gioia, di festa, di solidarietà, di vita cristiana, che però non può e non deve finire con la fine della GMG. Ma la GMG deve continuare e dobbiamo portarla a casa e portare a casa questo spirito. Panamà, sì, ci stiamo pensando, già ci stiamo pensando. Ci andremo. Io non so se voglio stare in Panamà, però le posso assicurare una cosa, che Pedro va a stare in Panamà. Goto tutti insieme, guarda tutti insieme.